e dunque Laura Letrari lo abbiamo detto ai campionati estivi è stata bronzo nei 50 stile libero in 25 10 per lei che ha vinto in carriera 11 titoli italiani assoluti bronzo con la staffetta azzurra gli europei di Stettino gli europei che si sono conclusi proprio nella stagione 2011 il bronzo insieme a Buratto Ferraioli e Pellegrini e il tocco vincente 25 42 ed è primato della manifestazione per Laura Letrari già dai turni eliminatori e dunque una grande prestazione per lei davanti a Bazzoni e Getto e dunque 25 42 nuovo primato della manifestazione